I cassonetti stradali verdi sono scomparsi e così a Marina di Taranto da oggi bisogna cominciare a fare i conti con la raccolta differenziata e l'abitudine alle patumelle. Il kit è stato distribuito da Chima Ambiente, vetro, multimateriale indifferenziato e organico. Per svolgere al meglio la raccolta è stata informata tutta la cittadinanza sulle corrette modalità di conferimento. C'è un preciso calendario di raccolta, le utenze domestiche dovranno esporre i contenitori all'esterno delle abitazioni o delle pertinenze condominali dopo le ore 22 del giorno precedente quello di raccolta. Dopo l'operazione i contenitori vuoti dovranno essere ritirati dagli utenti e custoditi all'interno di abitazioni. Nessun contenitore dovrà essere esposto il sabato sera poiché la domenica non ci sono turni di lavoro. Abbiamo atteso qualche giorno in più per consentire a tutti i residenti, i cittadini quasi 400 unità, di poter recuperare il kit messo gratuitamente a disposizione dall'amministrazione comunale. Taranto va verso il futuro anche grazie alla cooperazione dei cittadini e bisogna soprattutto custodire questo bellissimo intanto che è Marina di Taranto.